5 frasi di Pablo Ruiz y Picasso Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. Perché in casa mia non ci sono appesi miei dipinti? È perché non posso permettermeli. Se esistesse una sola verità non si dipingerebbero cento tele diverse sullo stesso tema. L'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. La pittura è più forte di me. Mi costringe a dipingere come vuole lei.